Aspetta, aspetta, al posto della Pasqua la festa della primavera, come al posto del Natale la festa d'inverno? No, un attimo che adesso spiego bene. Benvenuti in quest'altro video, come sempre se vi fa piacere un like, un commento intelligente e iniziamo subito. Prima di parlare delle letture di questa domenica che è 7 aprile, urge fare una precisazione. Non dico che critico aspramente la scuola, i dirigenti scolastici e comunque questa filosofia che a livello trasversale sta prendendo un po' tutta la società. Ma come si può, dopo 2000 anni, pensare di cancellare la Pasqua, che comunque è una festa legata alla primavera, semplicemente modificando il tutto con Buona Primavera? Come qualcuno ha fatto anche in alcune scuole di grado inferiore, tipo Buona Festa d'inverno. Ma dico tutto bene? Ora la dico semplicemente così, noi non siamo un foglio bianco, noi siamo il frutto anche di determinati valori e anche quando noi imponiamo un'idea atea, comunque stiamo facendo una inculturazione. Allora non ce la prendiamo con il cristianesimo o tutte le altre religioni che vogliono trasferire non solo dei dogmi, quindi dei misteri, quindi un credo, una fede, perché anche l'ateismo, se condiviso, diventa una filosofia, diventa una religione. Quindi per favore non diciamo che manchiamo di rispetto se mettiamo il crucifisso a scuola. E quindi è meglio toglierlo, perché per chi non appartiene al cristianesimo o chi non vuole credere, quello è un simbolo che non gli costa nulla. Quindi se magari la maggioranza desidera poterlo vedere senza creare proselitismo, senza dover rimpurre nulla, quale fastidio può dare? Ma proprio quando registro si deve far sentire questo elicottero. Ed eccolo qui, che corre, corre, corre il libero! Alla fin fine, che cosa dovrebbe importare ad una persona di altra religione oppure atea? Se si festeggia il Natale, si dice Buon Natale, o altrettanto il centro della nostra cristianità, che è Buona Pasqua. Sono comunque feste in cui prendersi delle vacanze e comunque al di là del crederci o no, c'è il rispetto, c'è la tolleranza, tanto per noi cristiani verso gli altri, quanto degli altri verso di noi. Ricordiamo, noi non siamo una tabula rasa, siamo il frutto dell'educazione dei genitori, del rapporto con gli altri, di questa società, della scuola, delle nostre amicizie, dei valori condivisi anche dall'aspetto legale della società. E quindi anche i valori sono una scala importante, condivise in maniera trasversale rispetto alla fede o rispetto a tutto ciò che non è fede. E allora va bene la laicità, va bene il liberalismo, ma senza eccessi. Ora possiamo tornare a noi, alle nostre letture. Proprio per questo, Atti degli Apostoli, concepisce anche la proprietà delle persone magari più ricche verso i più poveri come una messa in comunione. Tutto è comune, proprio perché l'intento era quello del vivere una comunità sociale e anche di fede per coloro che si apprestavano al battesimo e per coloro che erano già battezzati come una sorta di enorme fraternità, un amore filiale che non conosceva età, estrazione sociale, razza, etnia e religione. I figli di Dio si riconoscono da come si rispettano, da come si aiutano, dalla carità che hanno gli uni verso gli altri. Così anche la prima lettera dell'Apostolo Giovanni ci dice che coloro che sono stati generati da Dio, coloro che hanno la fede, questa fede vincerà il mondo. E avere fede significa proprio credere. È il primo verbo e credo sia anche l'unico che ci può fare entrare nella logica di quell'amore grande, sommo, onnipotente che viene da Dio, che è mostrato da Cristo e ci è consegnato dallo Spirito che ci farà entrare nel regno delle Letti, che ci darà la resurrezione e la vita eterna. Ed è per questo che il Vangelo, il Vangelo con cui sono stato ordinato, ci fa notare l'azione di Tommaso, la sua incredulità e poi il suo pentimento e il fatto che lui crede perché vede. E noi che a tanta distanza da quell'evento non possiamo vedere più il corpo fisico, il corpo materiale del Signore, che crediamo, allora noi saremo dei beati. Ecco qui che l'azione del credere diventa un'azione potente, un'azione però a cui approdare con una certa fatica. L'azione del credere è un'azione di affidamento, è un'azione in cui un po' da ciechi, secondo la ragione, non secondo la fede, ci fidiamo, stendiamo le mani e ci facciamo portare da Cristo. E dove? Nella sua grazia. Una grazia che è palpabile nel momento in cui noi togliamo di mezzo tanti perché e finalmente facciamo l'unica cosa possibile, seguirlo. E allora mettere in comune, avere una fede così forte da superare, le losing del mondo, e credere senza prove ci consegnerà la vita eterna. A voi tutti che celebrate questa domenica, da me e dalla piccola belva, buona domenica.